Buongiorno carissimi amici e ben trovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in blu curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi siamo a venerdì 24 settembre in studio ci sono io Martina Reolona. Andiamo subito assieme a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Cominciamo con il gazzettino. Continuano le notizie relative alla ricerca e alle ricerche di Giacomo Sartori. Infatti il titolo è ricerche a tappeto per trovare Giacomo battuta palmo a palmo l'area nel pavese dove è stata ritrovata l'auto di Sartori il giallo del cellulare acceso il giorno dopo la scomparsa e c'è un lungo approfondimento che riguarda le prime pagine del gazzettino. È stata infatti si legge nel titolo nessuna traccia di Giacomo le ricerche vanno avanti si legge nel titolone. Si parla appunto di Giacomo Sartori il ragazzo di Melli trentenne di Melli scomparso la sera di venerdì 17 settembre a Milano dove viveva e lavorava. Ma del tecnico informatico dopo sette giorni non c'è nessuna traccia lasciato dietro di sé diverse tessere per un mosaico che disegna un quadro inquietante e tragico. Siamo nel comune di Casorati e Primo in provincia di Pavia vicino all'agriturismo Cascina Caiella zona setacciata a pettine anche con i cani molecolari nel raggio di un chilometro persino con cavalli in azione. Ci aspettiamo di trovare una persona ancora in vita dice Davide Cerilli capo servizio dell'unità di comando avanzato dei vigili del fuoco del comando pavese e da un lato le speranze sono alimentate da quella cella agganciata sabato mattina dal cellulare personale di Giacomo. Alle 2.30 di sabato notte una nella zona di Casorate nel Pavese e alle 7.15 di mattina a Motta Visconti in provincia di Milano. Le ricerche appunto continuano e vedono al lavoro diverse unità di personale permanente volontario dei vigili del fuoco poi Croce Rossa, protezione civile e soccorso alpino. Per motivi contingenti abbiamo ritenuto di dover iniziare una bonifica con ricerche a terra continua a spiegare il comandante il capo servizio al comando avanzato dei pompieri si legge in questo articolo di Olivia Bonetti. Il fratello Tommaso ieri si è rivolto a Giacomo tramite la vita in diretta su Rai 1 il caso infatti è finito anche sui tg nazionali e il fratello Tommaso dice a Giacomo sei tranquillo va tutto bene noi ti aspettiamo hai tante persone che ti vogliono bene ti aspettano a casa prenditi il tuo tempo e non farti problemi a farti sentire ti aspettiamo. In serata i genitori a chi l'ha visto e dicono a tutti aiutateci a trovarlo. E poi c'è una comunità preoccupata non solo la famiglia ma una comunità preoccupata per il giovane Giacomo il consiglio finisce prima tutti alla veglia di preghiera anticipata la seduta comunale di Borgo Valbelluna per permettere al paese di andare in chiesa a Mel dove c'è la comunità dove la comunità si è unita per aiutare Giacomo si legge nell'articolo di Eleonora Scartone ci sentiamo impotenti di fronte a tutto questo vorremmo fare tutti qualcosa di più per Giacomo magari essere proprio lì a Milano. Con queste parole il parroco di Mel Don Massimiliano Zago ha cercato di infondere forza nella comunità di Borgo Valbelluna che ieri sera si è riunita in una veglia di preghiera per Giacomo e la sua famiglia. Altre comunità del territorio in particolare quella di Sant'Antonio si sono strette ieri sera in preghiera una richiesta unanime a Dio affinché sostenga la famiglia del ragazzo molto conosciuta. Una folla silenziosa di giovani adulti intere famiglie ha riempito la chiesa al cipratale di Mel per mandare un messaggio di forza e speranza a Daniela e Stefano i genitori del giovane Giacomo Sartori scomparso nel milanese ormai cinque giorni fa. Anche il vescovo Marrangoni in comunione il parroco la nostra potenza è essere qui uniti quindi tutti insieme per per sostenere la famiglia del di Giacomo Sartori. Cambiamo argomento andiamo avanti con la lettura del gazzettino ci spostiamo in questo caso a Feltre area di storo al pala Feltre nuovo bar e ara cucina il comune proprietario della struttura ha autorizzato la trasformazione dei locali la zona sarà a disposizione esclusiva delle società che operano nell'impianto e c'è questo approfondimento questo articolo di Daniele Mammani. Via libera del comune per il nuovo ristoro del pala Feltre con data 20 settembre è stata pubblicata sul sito web del municipio la delibera che autorizza il cambio di sistemazione del bar del pala Ghiaccio. I locali storici che occupavano la zona curva della struttura verranno abbandonati per avviare l'attività in quella che è da sempre identificata come la sala congressi. La zona bar spiega Andrea Bortoluzzi della cooperativa Elementa che alla gestione della struttura verrà spostata a secondo piano dove insiste ora la sala congressi e conferenze che però rimarrà tale. I due spazi verranno divisi da una serranda e sotto le vetrate che danno sulla pista ghiacciata verrà realizzato un bancone per poter assistere comodamente alle partite agli allenamenti agli spettacoli. Il nuovo ristoro sarà dedicato ai fruttori della struttura con un intento particolare alle società che in essa vivono. Andando sempre avanti ci spostiamo, torniamo meglio in comune di Borgo Valbelluna dove si continua a parlare della tematica della crisi aziendale. Idea standard si legge nel titolo Ideal a rischio torna nelle piazze, la protesta trichiana è sotto la prefettura arricchita da una mostra che racconta le eccellenze dello stabilimento. Settore Dile in fermento c'è richiesta di ceramiche ma il futuro è sempre più incerto, i lavoratori sono stanchi, si legge nel sommario, nel sottotitolo e l'articolo è di Eleonora Scarton. Con due installazioni, una in piazza trichiana ed una sotto la prefettura di Belluno, sindacati e lavoratori dell'idea standard di trichiana mantengono alta l'attenzione sul sempre più incerto futuro dello stabilimento. Data cruciale sarà con ogni probabilità quella del prossimo 27 ottobre quando ci sarà un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. In quella data la proprietà dovrà presentare un piano industriale e un'alternativa a dichiarare cosa intende fare del sito produttivo. E ieri i sindacati con l'RSU ed alcuni lavoratori hanno occupato un'area della piazza di trichiana dove hanno creato un'esposizione di alcune lavorazioni realizzate nel locale stabilimento. Resterà lì fino a domenica. I 450 lavoratori hanno anche raccolto la solidarietà del sindaco Stefano Cesa che ha detto serve dare il massimo sostegno a questi lavoratori, alle loro famiglie e alle parti sindacali. Andiamo avanti e leggiamo una notizia, in questo caso siamo in Agordino, ad Agordo e si parla dell'alleanza tra enti e istituzioni che ha permesso di non perdere, di non vedere la chiusura della sede IMSS. Quindi l'IMSS non lascia e raddoppia. inaugurata la nuova sede al servizio del capoluogo di Vallate del territorio, il dirittore Franchitti ha detto fondamentale la sinergia trovata con l'Unione Montana e l'articolo è accompagnato da alcune fotografie. L'articola di Raffaella Gabrielli. L'IMS non lascia l'ente previdenziale non alcuna attenzione di abbandonare la Gordino e anzi il contrario rilancia un pacchetto di servizi che vanno oltre quanto proponeva prima. Lo ha fatto capire a chiare lettere ieri pomeriggio direttore provinciale Angelo Franchitti in occasione dell'inaugurazione del nuovo ufficio di via 4 novembre 1918. Rimaremo sul territorio ha detto proponendoci al pubblico in cinque giorni alla settimana e spaziando in vari ambiti. Ringrazio l'Unione Montana-Gordina per averci offerto di occupare gratuitamente alcuni locali della sua sede a dimostrazione che l'Unione fa la forza e ieri alle 15 c'è stato il taglio del nastro. L'Unione Montana-Gordina ha messo a disposizione gli uffici incomodato gratuito e ciò consentirà di ottimizzare i costi e di investire le risorse nella nuova location. Ci spostiamo ora al Corriere delle Alpi dove le prime pagine sono dedicate ancora una volta anche qualche giorno fa era così all'inizio della stagione bianca all'avvio dell'inverno sugli sci, Tofani, Cinque Torri, apre al pubblico Vallo Antislavina per la sciovia Arei 2. Il Dolomiti Superski investe 130 milioni su 14 impianti e il potenziamento dell'innevamento artificiale nell'area bellunese e c'è questo lungo approfondimento a cura di Francesco Dalmas. Gli appassionati dello sci troveranno a loro disposizione da 27 novembre 14 nuovi impianti nell'area Superski Dolomiti per la cui realizzazione sono stati investiti oltre 130 milioni di euro di cui circa un quarto per l'innevamento programmato. A Cortina si potrà finalmente godere della cabinovia ad agganciamento automatico, cabine da 10 posti, lunghezza 4519 metri. Si tratta di un progetto realizzato nel contesto dei campionati del mondo di sci alpino ma anche in vista delle olimpiadi con spiccata vocazione di sostenibilità in quanto funge da surrogato il traffico motorizzato verso et al passo falsarego. Andando avanti nell'articolo sempre verso la stagione bianca c'è un dossier e c'è un altro articolo di Francesco Dalmas spinta allo schipasso online e uscite separate il piano degli impiantisti per ripartire in sicurezza in pandemia. Le proposte sono state formulate da settore alle regioni, al CTS e al governo seggiovia a carico pieno ma con le cupole scatta il limite dell'80%. Nella maggior parte degli impianti sciistici bellunesi la stagione scatterà il 27 novembre per concludersi a metà aprile 2022. Le linee guida ancora non ci sono ma le categorie del settore si sono date delle regole limitando il carico di funivie e telecabine all'80%. Una capacità sufficiente con presenze soprattutto italiane. Il protocollo delle associazioni farà da base nei prossimi giorni alle attese linee guida delle regioni in prima istanza e del CTS e del governo in seconda. Quindi ci si sta preparando per affrontare la stagione. A pagina 19 nell'articolo di Cristina Contento si parla del flash mob dei lavoratori della standard come dicevamo è stata fatta a tappa trichiana e in contemporanea anche a Belluno e nel titolo si legge l'azienda non diventi un nuovo disastro. La delegazione con i sindacati ha depositato una piccola mostra di foto. Il prefetto Savastano ha detto al presidente Padrin siamo con voi. Andiamo avanti continuiamo a sfogliare il Corriere delle Alpi ci spostiamo e cambiamo e cambiamo argomento. Andiamo a leggere qualche altra notizia c'è uno speciale anche per chi fosse interessato per chi acquista il Corriere delle Alpi c'è uno speciale all'interno del giornale. A pagina 25 in questo caso siamo a Feltre c'è la protesta dei cittadini. San Vittore, tetto e scalinata a pezzi vanno sfruttati i fondi di confine. C'è questo articolo di Laura Mirano che raccoglie appunto la protesta dei cittadini criticate alcune scelte fatte dal rettore Don Sergio Dallarosa e l'indifferenza del comune di Feltre. Troppi soldi investiti in cose di secondaria importanza come i garage del santuario a servizio della foresteria e l'indifferenza o la non scelta da parte del comune di poter inserire il monumento storico artistico sul Miesna in una programmazione di area vasta per mettere a sicuro la basilica da grossi problemi strutturali che riguardano il tetto e la scalinata d'accesso che versa in pessime condizioni. Un gruppo di cittadini attenti alle condizioni del santuario dei Santi Vittori e Corona si sono fatti avanti con una nota stampa per contestare alcune scelte messi in atto dal rettore per sollecitare il comune intervenire su un bene che rappresenta l'emblema della feltrinità. Il rettore di San Vito o di San Vittore Don Sergio Dallarosa ha sollevato il problema del tetto del santuario le cui condizioni di degrado stanno mettendo a rischio l'integrità degli interni se evidenzia nella nota. Suscita stupore il fatto che esso non sia ancora stato risolto dato che l'ultimo intervento a cura della soprintendenza risale a ben 40 anni fa. A tre anni di distanza da Vaia viene spontaneo chiesersi se sia stato fatto un progetto, se si sia provveduto a richiedere l'autorizzazione della soprintendenza e se essa abbia già effettuato il necessario sopralluogo. L'articolo è corredato da foto che mettono in evidenza una parte della scalinata da sistemare e si parla appunto della necessità, dell'opportunità di sfruttare i fondi di confine per appunto dare una sistemazione, dare ulteriore dignità a questo santuario, a questa struttura. Anche sul Corriere delle Alpi a pagina 27 c'è una pagina dedicata alla scomparsa di Giacomo Sartori, alle ricerche che continuano, video e celle telefoniche, ultime tracce di Giacomo, segnalazioni e false piste si legge. Continuando a pagina 28 siamo a chiesa al pago in questo caso precipita per 200 metri gravissima una donna, una 65 anni di cittadella è caduta sul monte, i soccorritori l'hanno trasportata al caffoncello di Treviso. Stiamo parlando di una donna caduta sul monte Antandera chiesa al pago, si parla, si tratta di Annalisa Ferronato, 65 anni, padovana di cittadella, che è stata trasportata in elicottero fino all'ospedale caffoncello di Treviso. Codice 3 d'ingresso, in una scala di 4 la donna è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dove si trova in pericolo di vita per via del pesante politrauma sofferto tra le rocce. ieri stava facendo un'escursione quando perso l'appoggio è scivolata per circa 200 metri in un canalone che scende verso il bivacco Toffolone. Sono stati allertati la compagnia di 118 ed è intervenito l'elicottero che ha la propria base a Pieve di Cadore. La donna appunto è stata trasportata al caffoncello di Treviso dove è purtroppo in gravissime condizioni. Vediamo se c'è ancora qualche articolo da leggere, direi di no, quindi con questa notizia possiamo andare a chiudere con la notizia che abbiamo appena letto, possiamo andare a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo puntuali domani mattina alle 8.30 sulle frequenze di Radio Pieve, dopo anche in video sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Amico del Popolo. Seguiteci, seguite le notizie che pubblichiamo sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it. Come sempre grazie per l'ascolto, un buonissimo venerdì, un buon fine settimana e ci rivediamo prestissimo. Arrivederci, grazie.